eccoci qua sempre presente tv cesate streetball on fire siamo qua con un partecipante del torneo luca esatto della squadra della squadra caffè pulito obiettivo della giornata caffè pulito ma l'obiettivo è divertirsi poi se viene la vittoria tanto di guadagnato però comunque in primis c'è divertimento c'è una giornata di basket e c'è comunque il fatto di stare tutti assieme e vivere una giornata di sport e il panino chiaramente anche il panino vi suggeriscono dalle retrovie il principale obiettivo chiaramente è quello di oggi è quello di divertirsi giocare senza farsi male assolutamente assolutamente non ruzzate troppo perché non ruzzate troppo è il consiglio siamo qua ci stiamo divertendo altri partecipanti della squadra? altri partecipanti della squadra sono praticamente due miei compagni di squadra gioco alla pallacanestro vi spero e invece c'è un altro nostro compagno di squadra che gioca a garbagnate quindi siamo tutti diciamo delle zone limitro perfetto ringraziamo luca ci vediamo dopo con una loro partita grazie a tutti